Ciao a tutte e a tutti, bentornati e buonvenuti in un nuovo video. Anche oggi mi ritrovo a dover girare con il telefono perché non so se avrei visto l'ultimo vlog, ma la mia macchinetta ha deciso di, non lo so, iniziare a riprendere, poi interrompere, chiudersi e fa un po' come gli pare. Probabilmente è stata ferma troppo tempo. Vi avevo promesso che avrei registrato questo video, quindi eccomi qua. Ci proviamo perché già è un disagio farlo di mio. In più registrarmi sarà un'esperienza, un'esperienza, scusate se ho gli occhi un po' rossi, ma ho appena finito di mettere le lenti a contatto perché ovviamente io, sapete benissimo, porto gli occhiali, ma per fare questo tipo di cose non li posso tenere. Devo comunque avere una vista abbastanza allenata. Questa è la seconda volta che faccio la ricrescita by myself. Solitamente sono sempre andata dal parrucchiere, quindi questa appunto è la seconda volta che l'ho fatto da sola e sto ancora cercando di prenderci un po' la mano. Tra l'altro, vi dico già da ora, che se vedrete questi capelli spezzati qua davanti, non è colpa di nessuno se non mia, perché non so se vi ricordate... No, forse no, su YouTube non mi avete mai vista, però mi ero fatta le due ciocchette più chiare qua davanti, quando avevo ancora il mio colore. Poi ho deciso di decolorarmi tutta, quindi ovviamente ripassando... No vabbè, mia madre vuole a schierapolvere, ma si può, si può. Dicevo, ripassando la deco sulle ciocchette già decolorate, si sono ovviamente spezzate, anche perché l'avevo ripassata anche più di una volta, quindi è stata veramente tutta colpa mia, e quindi niente. Anzi, adesso sono anche cresciuti in realtà, però c'ho queste due antennine che potrebbero benissimo sembrare una frangettina, quindi se le vedrete, ecco, è stato un piccolo incidente di percorso, però ecco, se non si fanno adesso queste cavolate non si fanno più, tant'è che infatti come vedete ho sperimentato i capelli lilla, che rifarò anche stavolta, tra l'altro. Il problema è che ho usato due tinte differenti, sempre colori ovviamente a base semi permanente, quindi nella parte sopra che avevo usato quella della Arctic Fox, il colore è rimasto, vedete, un po' più persistente, soprattutto in queste zone qua davanti, mentre sulle punte che avevo usato, quelle che andrò a usare poi anche oggi, che sono queste qui della Magic Panic, colore Velvet Violet, che ha una base un po' più rosa, si è tolto prima. Quindi sotto mi sono tornati quasi biondini, praticamente c'è un piccolo riflesso. Però, tanto prima che arriviamo allo step del colore, c'è la deco da fare, come vedete, credo siano passate tre settimane dall'ultima volta che l'ho fatta. Ovviamente ho i capelli sporchi, perché la deco l'ho fatta solo a capelli sporchi, altrimenti vi rovinate tutto. Teoricamente sarebbe consigliato mettere l'olio di cocco sulle radici, in modo da non rovinare il capello. Il problema è che non ho l'olio di cocco, lo devo ancora comprare, quindi vabbè, pace a meno, anche stavolta lo faremo così. Prima cosa fondamentale, perché l'altra volta mi sono impicciata e mi sono anche sbagliata, nel senso che praticamente nel fare le sezioni mi ero dimenticata un pezzetto, quindi io decolorata tutta totale, ia ia, fantastico. Mi guardo lo specchio dietro, c'era una macchia così marrone. Ho dovuto rifare un po' di deco, rilavare i capelli, c'è veramente un disagio, quindi sì. Voi direte perché allora non vai dal parrucchiere come sempre fatto, perché in realtà mi piace farlo da sola. Mi rilassa anche se mi snerva, fa lo stesso tempo, quindi è una sensazione un po' ambivalente. Detto ciò, ovviamente la deco va passata sempre prima nella parte dietro, che ci mette un po' di più a schiarirsi piuttosto che la parte davanti, che veramente io sono un biondo cenere come base naturale, quindi penso sia un 6 in gergo parrucchiere. Non mi ricordo che cosa mi hanno sempre detto. E fatto stare che comunque schiarisco molto facilmente e per fortuna ovviamente non tendo all'arancio, ma tendo un pochino di più al giallo, infatti mi è uscito un po' qui. Quindi vabbè, poi andando a fare questi colori sopra non si vede, però ci passo comunque l'antigiallo dopo. Quindi primo step deco, secondo step faccio lo shampoo, poi a capelli bagnati applico il colore e lo lascio in posa il tempo possibile, non lo so, intanto quello più lo tenete è meglio. Quindi prima cosa vado a dividere. Ovviamente inizio la parte dietro, volevo fare una sorta di triangolo, in modo tale da riuscire bene a prendere tutti i capelli. Quindi mi tengo un pochino dietro la fine del mio orecchio, quindi faccio una riga del genere, qui nel mentre mi farò due paesi uccetti, quindi mi vedrete proprio in tutto il mio splendore. Ve lo dico già che questo video sarà esilarante, già me lo sento. Altro ciuffettino, rigorosamente non ha la stessa altezza perché quando mai. Quindi ci troviamo in tutta questa sezione. Ovviamente dobbiamo ricordarci di avere uno specchio, perché sennò qua la cosa è veramente ardua. In realtà io mi ridivido anche questa zona perché non mi fido delle mie capacità e quindi... Tra l'altro guardate qua sotto quanto il colore è ancora pieno, no, forse non si vedrà anche bene. Dal vivo sono molto rosa ancora, quindi probabilmente dopo che avrò applicato la deco verso la fine darà una passata generale anche alle lunghezze, non arrivando proprio alle punte. Questa parte dietro che ho diviso me la ridivido a metà. E abbiamo questa sezione che si dai, si può fare, si può fare. E ora dobbiamo soltanto preparare la deco. Uso questa linea qui della testa nera, che si chiama blonde, quindi c'è sia l'ossigeno sia la polvere decolorante. Lo devo appunto finire, ce n'è ancora mezzo per attolino. In realtà ho già preso quella per le prossime volte, tanto io sarò bionda per il resto della mia vita probabilmente. e ho preso quella della Fanola, che è una polvere decolorante viola. Questa, come vedete, è quella blu, che in realtà è tra quelle un po' più classiche insieme a quella bianca. Quella viola dovrebbe avere anche già un effetto antigiallo di per sé. Questa qui in realtà io mi ci trovo abbastanza bene. Per quelle volte che l'ho usata, ok. Ossigeno, ovviamente a me basta e avanza. Questo qui che è a 20 volumi. In realtà io faccio queste cose a casa da sola, la piccola premessa che ovviamente è doverosa fare, perché io mi decoloro dai parrucchieri da anni, quindi ormai so come trattare il mio capello, so cosa usare. Ovviamente la deco non la tengo mai più di 25-30 minuti, perché anche se dopo un determinato tot, quando la deco si secca, non agisce più, va comunque a rovinarvi il capello. Quindi tenetelo quel tempo e basta, semmai poi riapplicate una seconda volta. Ovviamente dipende da che base partite, però alzo le mani perché io faccio quello che so che va bene per me, ovviamente. Qui ho la mia bilancina da cucina, ne ho presa una apposta per fare queste cose. Ciotolina, pennellino, anche se non mi fanno impazzire questi pennelli classici, però vabbè, se no ho quelli da trucco, non mi sembra il caso. Quindi su ogni deco in realtà c'è scritto quanto deve essere diluita, tipo qui c'è scritto una variabile di miscelazione da 1 a 5, 1 a 2,5. C'è anche scritto tempo di sviluppo 20-45 minuti, ma non credo di tenerlo 45 minuti. Io diciamo che faccio 1, 2. Quindi se metto ad esempio 30 grammi di deco, vado con 60 grammi poi di ossigeno. Non mi ricordo quanto era 30 grammi, non facciamone più di 30, perché l'altra volta l'avevo anche rifatta. In questo caso oggi vado a fare 50 grammi di polvere e quindi 100 di ossigeno. Poi ad esempio c'è chi preferisce la deco più dura, scusate il rumore di sottofondo, c'è chi preferisce quella un po' più morbida. Sinceramente io mi trovo meglio con quella un po' più morbida, riesco a spalmarla, a gestirla un po' meglio. Fatto ciò, adesso andiamo ovviamente a mescolarci la pappette. Troppo piccola sta vaschetta, ne devo prendere una un po' più grande. Mi raccomando preparatevi i guanti, perché la deco non va mai passata senza, ma in generale qualsiasi tipo di tinta, oppure anche colore, che vi macchia le dita, insomma non è mai, per quanto possano essere a base naturale, sempre meglio, no? Soprattutto vabbè la deco ovviamente è qualcosa che va a scolorire, tant'è che guardate cosa fa sulla maglia, pensate sulle vostre mani, quindi è capitato di andare da perrucchieri che usavano la deco senza guanti, ma tu sei pazzo, folle, furioso. Comunque vado a mischiare bene, perché si formano sempre questi crumetti, tant'è che io mi ero preparata anche una crustina, ovviamente l'ho lasciata giù, ora la vado a prendere, mi sa. Ok, ora che ho pronta la mia deco posso iniziare, con tanta paura, ma ce lo posso fare, no, ve l'ho detto, la parte che mi fa più paura è la parte dietro, però dovrei aver diviso bene tutte le sezioni, quindi non ci dovrebbero essere inconvenienti troppo aspri o amari. Io non ho mai il posto dove mettere il suo specchio, cioè mi servirebbe qualcuno che me lo tiene così, e potrei veramente fare le cose miracoli. Perché ora come lo divido questa ciocchetta? Come prendo una ciocchetta piccola da qua sotto? Così a caso praticamente. Questa volta avevo detto che facevo le cose fatte bene, già sto impazzendo. Ovviamente se per le prossime volte avete consigli su come fare in maniera, non so, meno disastrosa, fatemi sapere, perché io mi sono vista i video di tutti quelli che si decolorano da soli tre secondi e via, sarà che io ho una montagna di capelli anche se non sembra. Ci metto una vita, una vita. Ragazzi, una volta iniziato non si torna indietro, quindi io vado. Passalo solo sulle radici cheat. Tanto qualcosa perché no? Giusto? Ok, dai. Ed ora devo cercare soltanto di fare delle divisioni da un centimetro, in modo da non farmi venire le varie barrature. Perché voi starete vedendo solo il retro della mia testa. Che poi non so quanto si possono dare, ma già si stanno schiarendo. Allora, sono in fase posa con la deco. Ho già sciacquato la parte sotto perché ovviamente nel mettere cappi caucola sopra è un casino, perché sennò passava troppo tempo, quindi ho questa montagna in testa che mi pesa da morire. Ho rifatto la deco tipo tre volte, quindi ero partita con 80 grammi, mi sa che la prossima volta devo farne molti, molti di più. In più sono stata veramente attentissima, non mi è sfuggito un mezzo millimetro, quindi ci ho messo un po' di più oggi, però vabbè. Adesso devo soltanto mettere a posto tutto il casino. Sciacquare con lo shampoo, penso che farò uno shampoo normale e poi passo questo antigiello sempre di fanola. Come shampoo invece mi sto trovando da Dio con questo qua di Kerastase, che si chiama Blonde Apsul ed è uno shampoo solido, praticamente uno shampoo in crema, tra virgolette, che si usa proprio per le post decolorazioni. Infatti c'è scritto Ultra Moisturizing Post Bleaching Shampoo in Cream ed è super perché all'interno ha anche l'acido ialuronico, quindi gli va a rimpolpare proprio. Quindi ci vediamo post shampoo. Allora, avevo dimenticato il potere della deco su di me, tant'è che appunto alcune parti mi sono venute addirittura bianche, poi dopo aver ripassato la deco è tornato il biondo, le punte sono rimaste rosine. Lanciamo un nuovo trend, ombre hair. Il fatto sagra in crescita è venuto abbastanza bene, dovevo tenerla forse leggermente di più qui che c'è ancora un leggero, vedete, all'one un po' giallino. Ho fatto appunto solo uno shampoo e ora vado col colore. Allora, io ho preso due barattolini da... Qua sono da 118 ml, quindi ho un totale di 240 giù di lì. 236 per la precisione dovrebbe essere, se la matematica non è un'opinione. Lo vado ad applicare ai capelli bagnati. Ovviamente mi ne metto i guanti, anche perché ho le unghie chiare e mi si macchierebbero. Però a prescindere, ripeto, fateli sempre con i guanti queste cose, per favore. Comunque alla fine la deco l'ho tenuta 25 minuti. 25 minuti. sciacquando appunto prima la parte sotto, di cui sono molto soddisfatta, perché solitamente, a parte... Guardate, vedete il colore, come si vede qui, è rimasto di più. Sotto mi viene sempre più giallina, perché io tendenzialmente la passo prima sopra e poi sotto, sbagliatissima. Quindi stavolta sono molto soddisfatta. Come vedete ho la pelle un po' sensibile, quindi ho un leggerissimo alune rosso. Però passa, passa. Allora, io il colore non lo passo neanche col pennello. Praticamente lo metto direttamente con le mani e lo massaggio, perché tanto non ha senso farlo col pennello. Tra l'altro questo è un colore pastello, quindi lo metto senza diluirlo, perché sennò non si vedrebbe neanche. Quindi faccio proprio di questo, come se fosse una mousse, e me la spalmicchio in testa. E ovviamente questo tipo di colori, più lo massaggiate sul capello, più lo fate, tra virgolette, penetrare. Io prima lo metto, diciamo, a grandi linee, dopodiché inizio a massaggiarlo. Vedete che se lo massaggiate, il capello se lo assorbe, no? L'unica cosa è cercare di metterlo bene ovunque. Soprattutto io cerco di metterlo bene davanti, ovviamente che è la parte che si vede di più. In realtà io perché faccio sempre la grandona, perché magari basterebbe anche solo un barattolino, ma non ho ancora finito, ma mi sembra di stare a buon punto. Ovviamente, come vi ho detto anche prima, aspetto consigli da chi ha i capelli colorati da più tempo di me. Perché io l'ho fatti molto spesso, però non li ho mai tenuti a lungo, da dovergli dare anche tipo un mantenimento, no? Infatti, vabbè, soprattutto questi colori pastello, non c'è bisogno, ve lo dica io, che durano 4, 5, 6 sciampi. Io ad esempio, vabbè, tendo a lavare i capelli una volta a settimana, perché mi si sporcano veramente molto raramente. Quindi su di me durano un po' di più. Devo ripassarlo bene qua, perché vedete che non attacca, non so perché mi fa sempre questo scherzetto. Parrucchiere all'ascolto, fatemi sapere se lo sapete. Non è che non ci metto il colore, ma proprio non prende. Allora, sto prendendo anche il secondo. Sì, è bella che porta a casa. Sarà in una decina di minuti, sì, che sto massaggiando. Continuo per almeno un'altra decina di minuti, dai. Allora, colore in posa, l'ho massaggiato per 25 minuti, mi salto più le mani. Ora lo lascio altri 10 minuti, così ne ho ottenuto una mezz'oretta abbondante. E dopodiché sciacquo. E speriamo che non è un risultato decente, visto che per ora sembro solo lupa lupa. Allora, siamo giunti alla fine del video. Non so bene dove farvi vedere i capelli in realtà, perché sotto una luce sembrano diversi, sotto un'altra sembrano un'altra. Praticamente il colore mi ha preso tantissimo, soprattutto nelle zone dove avevo appunto appena decolorato. Però in realtà non mi dispiace che le punte siano un pochino più sbiadite, vedete? È venuto un po' più rosa di quello che mi aspettavo. Me l'aspettavo un pochino più lilla, freddo, tipo quello che indosso. Praticamente sembro un mirtillo gigante adesso. Però sono molto soddisfatta anche della ricrescita, perché non mi sono venute le barrature, quindi questa è ovviamente una cosa da apprezzare. Fatemi sapere se vi piacciono nei commenti. A me non piacciono i colori troppo pieni, io vado sempre un pochino più sui pastello, quindi sono molto soddisfatta. In più sono morbidissimi, cioè, guardate. Fatemi sapere nei commenti e magari prossima volta proveremo un altro colore. Chi lo sa, magari riuscirò a discostarmi da questi rosa e viola. Grazie. 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 Grazie.